Il processo di ingresso della Turchia in Europa è un tema molto complicato, molto complicato. Perché resti agli atti, così che qualche statista da social network possa ricordare le posizioni dei governi italiani, mi riferisco a colleghi politici del nostro paese, sia la destra che la sinistra in Italia erano favorevoli all'ingresso della Turchia in Europa. E lo erano forti anche di un grande rapporto personale, tanto Silvio Berlusconi quanto Romano Prodi. Non lo furono i tedeschi e non lo furono soprattutto i francesi, che nella prima decade del 2000 bloccarono questo processo. Quella Turchia di allora aveva caratteristiche diverse dalla Turchia di oggi. Mettendola in modo diplomatico era meno scossa dagli attentati e dalle minacce terroristiche, che hanno fatto molte vittime, come sapete, anche recentemente ad Ancara. Oggi si è deciso di fare un passo in avanti per un accordo sull'immigrazione e di continuare, come da dichiarazioni del 29 novembre dello scorso anno, le discussioni su un percorso che non sarà né facile né breve. L'Italia ha però una posizione che è molto chiara. Noi vogliamo salvare la vita dei bambini che arrivano dalla Siria o dall'Eritrea o dalla Nigeria e contemporaneamente fortissimamente vogliamo che i diritti umani che costituiscono il valore cruciale dell'idea stessa di Europa siano mantenuti e difesi.